Un'ora fa, in pieno centro, dentro il perimetro dei mercatini di Natale, un gravissimo attentato ha sconvolto la serenità e la tranquillità di una città che è diventata appunto la capitale del Natale nel mondo. Le notizie si susseguono anche contrastanti. Qui in Parlamento ci giunge la notizia di almeno cinque morti, mentre la televisione continua ad insistere su un numero pari a due deceduti. Ovviamente i lavori qui in Parlamento sono continuati, siamo qui tutti bloccati. Le uscite sono state interdette ai parlamentari, al personale di servizio. Non vi nascondo l'ansia, la preoccupazione, ma soprattutto il dolore che ci ha coinvolto in questa immane tragedia. Proprio mentre stavamo discutendo una risoluzione che andrà al voto nella seduta della plenaria di domani mattina, una risoluzione contro il terrorismo che i parlamentari europei hanno fortemente voluto e che dovrebbe costruire le migliori condizioni per mettere in rete e in connessione le volezzie di tutta Europa, proprio per impedire e prevenire nuovi atti di terrorismo. Un Natale sporcato dal sangue di vittime e innocenti.